Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale Allora, vi faccio un video collaborazione con l'azienda Vogue Me che gentilmente mi ha inviato un loro prodotto Questa azienda tratta, anche già come vedete dal logo tratta di montature per quanto riguarda gli occhiali che siano da vista oppure occhiali da sole Vi faccio vedere immediatamente quello che mi hanno mandato e quello che appunto ovviamente mi hanno fatto scegliere a me Questa qui è la confezione così come è venuto ovviamente era dentro un pacchettino di cartone ben sigillato e ben protetta La confezione degli occhiali è qui dentro Questa qui è una bustina appunto in pluriball per poter appunto salvaguardare al meglio gli occhiali Allora, il pacchettino quindi contiene tutti quanti questi accessori troviamo all'interno un righello chiamavolo righello, non so quale sia il nome specifico di questo è praticamente un righello che serve per misurare la distanza delle lenti della montatura degli occhiali in dotazione c'è una piccola spilla carinissima fatto così con dietro appunto il logo e c'è praticamente questi accessori che sono essenzialmente un piccolo cacciavite con la doppia estremità ora vi faccio vedere per far sì che magari se si svita qualche vitina abbiamo già subito abbiamo subito a portata di mano il cacciavite con la doppia estremità da un lato quello a croce dall'altro quello con la punta piatta e dà anche un portachiavi per poterlo portare sempre in borsa attaccato magari alle chiavi per averlo sempre a disposizione e qui ci sono i gommini da poter mettere ai lati della montatura dove va ad appoggiarsi il naso però io ho scelto una montatura che non ce li ha perché da tanti anni ormai io utilizzo gli occhiali e ho preferito sempre occhiali senza la parte con il gommino laterale della montatura sostanzialmente all'interno qui troviamo gli occhiali è una semplice custodia in plastica arancio fluo ecco qua la scatolina degli occhiali aperta c'è la solita pezzettina in vellutino per poter pulire le lenti e questa qua è la montatura che io ho scelto è una classica montatura che appunto si porta ora che volevo perché sto per cambiare la montatura storica che ho io e volevo cambiare un po' la forma e quindi ho voluto scegliere questa qui fatta così è di base blu con tutti quanti delle rifiniture che vanno sul verdino, violetto, lilla fatta molto molto bene la montatura sembra molto resistente fatta benissimo devo dire per il prezzo irrisorio che ha ovviamente le lenti non sono quelle che utilizzo io ma ci sono quelle provvisorie ora andrò comunque da un ottico a farle cambiare sembra molto molto salda fatta benissimo ovviamente qui nell'info box vi lascio tutti quanti i riferimenti del sito quindi il sito, il loro contatto instagram per andare appunto a vedere tutte quante le montature che trovate appunto sul sito quindi questa qui ovviamente non vedo l'ora di sistemare le lenti e poterla iniziare ad indossare perché appunto mi piace tantissimo se volete vederla indossata vi lascio qui in sovimpressione il mio instagram così potete venirla a vedere direttamente su instagram indossata io ovviamente ringrazio l'azienda per questo appunto per questa collaborazione se le acquistate fatemi sapere qui sotto con un commentino perché vedo se riesco a recuperarvi anche un codice sconto per acquistarle bene questo è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo ciao